per la serie un fumetto al giorno leva il medico e coronavirus di torno oggi sono qui per presentarvi una nuova testata della panini trimestrale quindi non è diciamo eccessivamente impegnativa a livello di costi perché spalmate i 9 euro 90 in tre mesi ma vi assicuro che ne vale veramente la pena è il numero uno di ducktales ricorderete che qualche anno fa in tv facevano vedere i cartoni animati di zio paperone con i picco qua e paperino che andavano in giro per il mondo facevano scoperte era molto avventuroso è una saga molto avventurosa la copertina è cartonata come vedete sapete che mi piace farvi quindi una bella costa stile marvel vedete come il collection della marvel ci sono esattamente nove storie come potete vedere e appunto colorata benissimo carta patinata semi lucida semi lucida che forse uno dei migliori in assoluto tra la luce dell'opaca e disegnata veramente molto 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 bene con tecniche moderne ripeto questa è una serie che mi può fare diciamo così in questi momenti in cui si deve stare in casa appunto per il rispetto che sia per se stessi soprattutto per gli altri mi può far sognare perché sono storie avventurose storie di viaggi in luoghi misteriosi scoperta di tesori diciamo che è una sorta di indiana jones diciamolo versione paperopoli versione versione paperi il primo volume appunto si chiama gli anni d'oro gli anni d'oro e ripeto il prossimo uscirà fra tre mesi hanno la numerazione io ve la consiglio è formato è quasi quello della marvel leggermente più basso però più o meno è quello è godibile è un bel lettering si riesce a vedere molto bene la lettura e spesso e volentieri uno dei difetti di molti fumetti è lettering cioè le scritte nei fumetti che sono molto piccole no e chi ha problemi di vista soprattutto se è over over 40 magari anche con gli occhiali da presbite fa fatica a vederli quindi io ve li consiglio con tutto il cuore è una bella testata ripeto potete spalmare i 9 euro 90 in tre mesi quindi l'impatto che ha su di voi sono circa 3 ore 30 insomma non è tantissimo al mese ok ve la consiglio duck taste numero 1 per la panina editore ciao a tutti mi raccomando restate a casa